Che senso ha oggi essere nei Balcani? Dal punto di vista di un'organizzazione internazionale come la nostra, che opera in questi paesi dal 1991, significa innanzitutto rispondere alla domanda sul senso di fare cooperazione allo sviluppo in paesi che ormai sono prossimi all'ingresso dell'Unione Europea. E' per questo che negli ultimi anni siamo concentrati su un importante processo di innovazione che parte dal ripensamento del ruolo delle sedi locali e arriva fino all'avvio di nuove alleanze strategiche come il recente ingresso di COSVA all'interno della rete di ESIS per l'economia sociale. In questo percorso di trasformazione non vediamo il nostro ruolo esaurirsi, vediamo invece il nostro ruolo rafforzarsi trasformandosi in un facilitatore culturale tra quello che è l'esperienza europea e quello che invece è l'esperienza locale.